Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Brawl Stars in i miei episodi numero 3 Torniamo con la nostra Nancy, Nancy, Pensy, come cazzo la si chiama questa qua? Me la so scordato, aspettate, aspettate, aspettate che ricordo come si fa vedere, scusatemi Oh, ecco qua, Selly, ecco, si chiama Selly Allora, noi abbiamo sbarcato Selly, l'orso Chiquita e poi abbiamo sbarcato Pocho, il messicano pazzo Sono tutti e tre carini, però signori miei, io voglio andare avanti con Selly, mi piace Questa capigliatura viola mi fa molto... no, non voglio prova, scusatemi Mi devi dare Selly di selezione, perfetto Detto questo ragazzoli, prima di andare in battaglia, certo Io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti che mi state dando per questo gioco Chi vuole l'ID non so come darglielo, sappiate che mi chiamo maullo941 Quindi se mi cercate penso che mi trovate Vi ringrazio per i like, per i suggerimenti, per i commenti, per il supporto che state dando a questa serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come maullo941, il link li trovate in descrizione E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni lo potete fare tramite PayPal, il link è sempre in descrizione Ragazzoli, piccola parentesi Per questo periodo di agosto noi faremo solamente i video delle 7 In cui alterneremo Brostars, che per ora mi ha preso molto E alterneremo FIFA con la carriera dei gamberetti perché dobbiamo riuscire a conquistare il mondo E a settembre poi vedremo un attimino di riprendere gli orari delle 12 e delle 7 per i video E eventualmente se ne avete voglia potremmo anche riprendere a fare qualche live O come abbiamo fatto durante l'estate, il lunedì sera O anche magari farne qualcuno in più durante il giorno Detto questo partiamo con il video Ok signori miei, siamo pronti, andiamo a giocare Continuiamo Ricerca giocatore, la lettera rossa attiva Non so cosa stava dicendo, va bene Partiamo direttamente in battaglia Signori miei, siamo 3 scelli contro 3 avversari Non so chi siano, però va bene Andiamo subito in battaglia Raga, so fortissimo comunque Mi rendo conto che finora ho fatto sempre vittorie Non ho mai perso un altro Ehi, ehi, ehi Apazzo, vieni qua Ok Dove sono io? Ah, io sono quello verde Ok, ok Dovrei aver recuperato già una gemma se mi sbaglio Se me ne dai un'altra già è tanta roba Allora queste devono morire Devi morire male, devi morire male Ti faccio il super corpo Oh, una gemma, una gemma, una gemma Hanno più gemme di noi Questa cosa non va bene Questa cosa non va bene Mi dai una gemma subito Dammi una gemma, dammi una gemma Ok, siamo in vantaggio 4 a 1, 4 a 1 Tu devi morire Mori, mori, mori No, mi ha ammazzato No, siamo ancora vivi Non so come ma siamo vivi Dai, è così, dai, è così Ammazzala Tu devi morire Il messicano pazzo lo uccidiamo pesantemente Bello così C'aveva gemme il messicano pazzo Non aveva gemme il messicano pazzo Torniamo velocemente alla base Veloce e veloce C'è una gemma, c'è una gemma Dove stai andando? Dove credi da andare? Bruttazzo Dammi quella gemma Mi serve quella gemma Dammi, dammi la gemma No, sono praticamente morto Via, via, scappa da qua Scappa da qua Abbiamo una sola gemma Oh, questa partita è più combattuta del previsto No, sono morto, mannaggia Otto gemme Dai, 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 raga Dai, raga che ce la famo Nove gemme Dai, dai Contra la rovescia Bello così Bello così Devi morire Devi morire Mori lì Bello Recupera la gemma Recupera la gemma Recupera anche l'altra Bello così Dai, 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 dai Recuperiamo le vite che siamo messe in poco male Dai, sei secondi Cinque, quattro Tre Due Uno Torniamoci a casa Dai, 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 dai Finita Andata, raga, andata È la prima che ce la siamo portata a casa È la prima che ce la siamo portata a casa Leon 123 Ok, l'importante è portarci a casa la vittoria Grande la nostra Sally Bella così Sembra un super saiana con questi capelli così Brava Sally Brava Sally Ma sì, mettiamo soldi dentro Coppe, cose Non so che stiamo a fare Allora, io se non sbaglio Nel negozio c'è qualcosa di gratuito Ovvero soldi Piliamo Oh, che carino Grazie per i soldi Abbiamo qualche altra cosa di gratuito? No Possiamo comprare punti esperienza per Sally Vai, così Si Compra punti esperienza per Sally Punti energia Dai, così Grande Sally Che dobbiamo farla salire di un altro livello Va bene Basta Ehm Poi potremmo anche prendere dei soldi Anche per Ma sì Passi Facciamo tutti i posti Punti energia per Mita Ok Che però Giustamente no Oh, lo possiamo migliorare Brava All'orso Yogi lo possiamo migliorare E anche per il messicano pazzo Dai così Dai così Miglioriamo pure il messicano pazzo Dai così Ok Lui ancora pollo i 10 punti Va bene Allora, torniamo indietro Miglioriamo il messicano pazzo No Chi è la Mita Migliora Dai così Massi Migliora Ok Abbiamo Abbiamo portato a livello 2 L'orso pazzo Ok Sono tutti pazzi E andiamo Possiamo Abbiamo un nuovo evento No Abbiamo qualcosa Posso poter sbloccare No Notizia Non mi interessa Andiamo a giocare ancora Raga Dai 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 So carico Alla fine Mi ha preso questo gioco Ragazzoli Non pensavo Però devo dire Che è molto simpatico Molto divertente Ecco Pensavo fosse Stupidotto Con un gioco Invece devo dirti Che Devo dirvi Che mi ha appassionato Parecchio Nel senso È carino È carino Allora Noi abbiamo già preso Una gemma Se non ricordo Ma l'abbiamo già Devi morire Devi morire Devi morire È inutile che ti nascondi Devi morire Devi morire E muori Se mi ammazza lui Oh perfetto Un'altra gemma Un'altra gemma Recupera la gemma Recupera la gemma Bello così Ok Siamo nella zona X Abbiamo due gemme Ci hanno fregato le gemme Raga Ci hanno fregato le gemme Mazzardi Ci hanno fregato le gemme Tu sei nascosto dietro Ti ho visto Dai dai Uccidilo Grande Due gemme recuperate Due gemme recuperate Scappa velocemente Recupera quest'altra gemma Bello così Abbiamo cinque gemme a due Io sono praticamente morto Ma porca Di una paletta ambriaca Dai così Dai 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 Ripigliati 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 Otto gemme a due Raga Siamo morti Siamo morti Questa cosa è gravissima Questa cosa è gravissima Dobbiamo ucciderli tutti Dai No L'avevo quasi ammazzato A quello che c'è cinque gemme Dai 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 Riparti zio riparti No 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 Contra la rovescia per i rossi No 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 Non va bene questa cosa Non va bene questa cosa Vanno uccisi raga Vanno uccisi Vanno uccisi questa cosa Dov'è un rosso Un rosso Dove sta un rosso Recupera recupera Bello così Dai 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 Contra la rovescia No C'era contra la rovescia per noi Ho perso le due gemme Che ci davano la vittoria raga Mannaggia dai 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 Contra la rovescia per il blu Dai 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 Scappate raga Scappate 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 Manteniamo le gemme Manteniamo le gemme Manteniamo le gemme Manteniamo le gemme Uccidili Uccidili Ne abbiamo 16 Via 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 Veloce 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 4 3 2 1 Vittoria Partita conclusa Andiamo così 2 su 2 raga 2 su 2 Il migliore è stato Suzy killer Livello 2 Bella così Abbiamo un attimino rischiato Abbiamo un attimino rischiato Ma ci siamo partiti a casa La vittoria Dai così Bello 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 Mettiamo dentro le coppe 56 coppe Che ci faccio con le coppe raga Ah c'è una cassa Porca miseria C'è un sacco di cose da fare Dai con la cassa Apri 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 Che mi dai Che mi dai 12 monete d'oro Punti di energia per Nita Norsorso Yogi Buono così Un po' pochino Punti di energia anche per Pocho Il nostro messicano pazzo Dai così Ho riuscito queste tre cose Che cosa credo Prendi Nuovo evento sopravvivenza Uuuuh Bello così Sopravvivenza E anche qui c'è una raffa gemme Ma si Pichiamo tutte cose Ok E poi aspetta un attimo Mi sono perso un attimo Ecco c'è un'altra cassa da aprire Chiusura di episodio col boss Che mi dai 18 monete d'oro Punti di energia per Shelly Grande Shelly 10 punti Sella 34 Ok Punti di energia per l'orsor Yogi 10 punti Sella 15 Buono 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 Abbiamo ricevuto tante belle cose Ah Raga A 60 coppe sblocchiamo il pistolo aero pazzo Bello Bello Oh A 150 al footbrawl Va bene ragazzoli Allora detto questo Io per questo video mi fermo qui Spero che vi siano piaciute queste due battaglie veloci Spero che questi episodi vi piacciono E detto questo Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo video Bella raga Ciao Ciao